Paola Cardelli è il candidato sindaco per Sinistra per Teramo. Questa mattina la presentazione ufficiale della candidatura e della lista in appoggio. Perché ha scelto di candidarsi? Lei ha un passato in Consiglio Comunale a Teramo come consigliere di opposizione? Sì, perché abbiamo scelto di candidarmi insieme al costossegno del gruppo del centro politico Santo Santa Croce che è stato fondamentale in questa candidatura. Perché abbiamo tentato noi effettivamente di trovare una convergenza con altre liste, con altre aggregazioni che oggi si presentano sotto il simbolo di cielo sinistra, ma lì di sinistra ce n'è ben poco. Intanto chi c'è al fianco di Paola Cardelli in questa avventura? Quali sono gli altri candidati? Gli altri candidati sono appunto molti del centro politico Santo Croce, altri candidati sono alcuni che hanno un passato di attivismo politico dell'estrema sinistra, altri che non hanno avuto mai attività politiche e quelli come me che sono molto attenti alla politica ma diciamo più laici, di provenienza più laica. La sua è stata una candidatura a sorpresa fino a una settimana fa, non se l'aspettava nessuno? Non lo so, penso che qualcuno ha avuto già diversi contatti a riguardo, cioè non è proprio a sorpresa, forse per il pubblico potrebbe essere considerata a sorpresa, ma non lo è a sorpresa perché effettivamente il presupposto per candidarmi magari o diversamente o non candidarmi affatto, se avessi ravvisato un programma concreto di sinistra, non l'ho visto. Quindi a questo punto la mia candidatura e quella del mio gruppo si ritiene come decestaria per dare una speranza non solo a noi di avere un'alternativa ma anche ai cittadini terramani. Chi è l'elettore di sinistra a termo? L'elettore di sinistra a termo ormai diciamo che esattamente come i rappresentanti di sinistra sono diventati degli sconosciuti, forse anche l'elettore di sinistra deve ritrovare una propria identità e qui noi speriamo di poter restituire anche un'identità di sinistra a chi l'ha perduta per i motivi per cui per un po' di tempo anch'io l'avevo perduta. Che obiettivo si pone lei? L'obiettivo di programmatici proprio andiamo dalla lotta all'evasione alla lotta al lavoro sommerso controbilanciata dai incentivi alle imprese che assumono, incentivi alle imprese che si comportano in maniera virtuosa, quindi manutenzione dal verde, ad esempio applicazione della legge sugli spiegi alimentari. Noi speriamo un'affermazione più possibile importante perché potrebbe anche essere a quel punto un momento di trattativa successiva, un momento di ballottaggio per dare eventualmente un appoggio e quindi poter vedere punti del nostro programma realizzati in cambio di nulla, naturalmente noi l'appoggio, altrimenti l'arriamo fatto adesso l'apparentamento, noi non cerchiamo assolutamente di avere, come dire, in cambio di benefici personali, proprio la realizzazione dei punti di programma a cui noi crediamo e che abbiamo dimostrato dall'opposizione di poter perseguire con tenacia.